Misano World Circuit è il grande parco dei motori, tre piste, la pista internazionale qui alla mie spalle, la pista prove o anche famosa come il misanino e la pista flat track, tre piste che rappresentano l'eccellenza del nostro territorio, nel cuore della riviera di Rimini, a pochi passi dal mare, ma nel cuore anche della Motor Valley, il grande distretto industriale legato al motorsport. Ci troviamo in sala stampa, una sala stampa che ospita oltre 400 giornalisti e insieme poi alle 600 mila presenze, che è stata l'annata record dello scorso anno, alle tantissime manifestazioni sportive e commerciali, oggi diventa essenziale poter gestire innumerevoli flussi di dati attraverso dei veri e propri archivi che ci permettono poi di supportare il cliente, sia che sia individuale che le grandi aziende. Questa necessità ci ha portato a una scelta importante, ovvero quella di Aruba, un leader indiscusso nella gestione immensa di dati, come lo è appunto quello di un circuito, sia da un punto di vista sportivo, sia da un punto di vista di sicurezza. Poi inoltre Aruba fa parte del motorsport, infatti è presente nel mondiale superbike, come Aruba Heat Racing e Ducati. Oltre alla gestione dei flussi di dati, l'elemento che ci collega ad Aruba è sicuramente il tema legato alla sicurezza. La sicurezza per una pista internazionale è essenziale, è un tema prioritario a cui Misano sempre ha posto tantissima attenzione. E quindi per la gestione della sicurezza abbiamo implementato la nostra riscontro, proprio anche grazie a una collaborazione con Aruba che ci permette di archiviare un'infinita serie di dati e di registrazioni che possono essere fondamentali strategiche, sia da un punto di vista sportivo, sia da un punto di vista di sicurezza. Siamo qui nel race control del Misano World Circuit e questa qui è la centrale operativa di gestione del circuito, dove negli eventi come MotoGP, Superbike, Blind Plane, il direttore di gara con i suoi collaboratori riescono a gestire qualsiasi evento che può accadere durante la manifestazione. Per evento si intende una macchina che si ferma o una moto che scivola. Questi eventi vengono registrati e salvati per poi essere archiviati nel Cloud Object Storage di Aruba. Perché Aruba? Flessibilità, scalabilità, sicurezza e minor effort nella gestione. Flessibilità perché con Aruba possiamo cucirci addosso lo spazio che noi abbiamo richiesto e che potremmo anche aumentare nel caso in cui abbiamo necessità di aumentarlo. Sicurezza perché oltre che avere un canale sicuro tra la nostra sede di Misano e il Cloud di Aruba, la sicurezza sta proprio nel tenere i dati in un ambiente dove è controllato l'accesso, dove ci sono tutte quelle caratteristiche, alimentazioni ridondate e quant'altro che Aruba ci può dare. Minore effort nella gestione significa non investire sulla formazione di personale interno per poter gestire e controllare una soluzione on-site e non c'è nessuna soluzione on-site che può essere paragonato al Cloud Object Storage di Aruba.